Ciao, lui è Alberto, produttore di vino e pittore, e vi parlerà di arte e di vino. Bentornati sul canale di Alberto. Oggi affrontiamo il quarto quadro della ricerca sul movimento, la bellezza. Noi alla bellezza diamo un valore che è fine a se stesso, che quasi non esiste, perché appunto la bellezza è diversa per ognuno di noi. Da questo nasce la forma ondulata di questa figura, perché la bellezza cambia, varia, cambia da persona a persona. E allora mi sorge spontanea la domanda, che cos'è veramente la bellezza? Io ti do una forma, tu completa la tuo piacimento, e ricordati che sei tu a decidere cose belle, non gli altri.